non ti alla parte la 4 all'episodio 4 mi pare di spazio alz vtm con superflare 64 e quindi quindi tecnici tecnicia si è partito faremo ok apparsa una notifica di skype sdc attiva ok chi ha un'estate presente quella che tu detto oggi no che partecipa live rasi ecco oddio conti occhi conti oddio conti da quanti sono questi ragazzi o dati una calmata uo no adesso ho messo l'arcad perchè le missioni sono diventati sono diventate praticamente impossibile ah questo è l'arcad si non è che l'arcad era poi così facile eh ti ricordi il porcospino ombra non è che proprio non possiamo continuare ok adesso arriveranno gli altri ma ti posta sì e qui con noi abbiamo degli ospiti ovvero trocchiamo trocchere marchi e poti sveglia ombra messa ma io mi ho capito che dobbiamo fare manco io ho capito uccidere basta ah dobbiamo distruggere quelli dobbiamo levare queste cose aspetto a a e si ma stanno nelle punte o ragazzi non possiamo andare avanti appena c'è manda yes l'ho preso dove lo metto qui metto un poggiorno ok 1 ci penso io fermo vai vendicatore prendilo grande e a dopo acqua e oma che è scemo no intelligentissimo a confronto di te efec noi li metto tutti aspettati che li porto tutti no non importare quelli causano i mostri a a vieni qua fatti prendere fatti prendere cavolo fatti prendere vatti prendere cazzo a ok basta non posso più proprio ti muovi sono sceso a un botto della vita perché è un po' però da prendere quello la cazzo cazzo e musica pro è arrivata qui con noi la musica pro io non lo sento io sì è vero l'ho levato oh ripia sto coso qua io in omo basso ho fatto sempre io e tu sai come si fa aspetta no lei baratemi ah l'hanno già fatto no che manca l'altro ancora quanti sono wow wow 63% no oh chi è che ha preso la pozione vitale eeeh po puteis love non so che cazzo ooooh minchia levatevi no io me ne rimango in disparto nooo 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 questi rimangono qui poi rimangono tutti quanti in disparte e ci ucciono tutti i mostri poi chi cavoli allora fermatevi tutti l'indicatore è qui per salvarvi te grande e no mo si è aperta mo che l'ho tolto che pizza acqua lo po questo si so frega tutti che pizza si è fregato tutti i cosi qua bello questo che palle alta le preso tu non vuoi dai che è finito di giallo appunto si scende quando intendi caricarlo non lo so sicuramente dopo il live di domani quindi questo video lo vedrete molto dopo il live ma che quello che si è portato alla testa dimostro la cima ecco allora un strego bagniamolo no 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 e che lo devi banna perchè porta il cattivo qui da noi e quindi? e quindi adesso moriremo tutti per colpa sua se siamo carica però che calo siamo già tutti qui e si ma me non carica muoviti ok questa questo è difficile questo è difficile sicuro muori crepa oh ma non vale che quelli si fregano tutto oh si frega tutto oh non andate qui qui eh bravo lo scemo aperta la porta no ma ci fanno il culo chi è scemo eh cosa docremark è quello che ha portato la testa me sa no è un altro aiuto siamo capitati in squadra con degli scemi ahhh una mano eh sì sono morto aspetta tieni oh perchè non ti rivivi aspetta adesso voi crepate eh proprio strondo sei aspetta famiglia no chi ha tempo non aspetti tempo muoviti e no no ma mi ciclo no fuck aiuto no dai sei morto eviti no e simbolo mi aspetta che quelli ci rivivano no no ci stanno quei cosi sopra non mi volevo rivivere hai usato energia no ah non mi ero prevo rivivere ah ecco perchè mi sembrava che ahhh a morte i miei tesori dobbiamo tenere questa tattica cioè uccidi da qua io e te insieme la tattica fuck yeah no questo ah o chi è che ti ha colpito tempo mi serve della vita o quanti ci mette a caricarsi da caribur che cavolo ci metteva di meno mi ricordo eh che strondo io lo uccido da questo si frega i soldi toh pitta roba tu mo' che facciamo e mo' andiamo avanti nella missione che dobbiamo fare ce li siamo persi al perno ha ritrovato uno oddio via non andare lì io ci vado ahhh ahhh aspetta che ti inseguono fla superfla che ti inseguono vai via tu ti salva l'indicatore si ho capito ma dove lo vado a mente sta chiave alla porta quella principale la per facile guarda la ma aspetta ti faccio strada vieni qua qui no quest'anno troppe cose è un trabocchetto non penso ma possiamo finire qui il livello no quello torna a casa c'è un altro ascensore e dove quando apriamo tutto me sa vabbè da qualche parte deve stare comunque per forza apri e tu che pensai fosse una trappola eh eh no è quello il livello torno stanno tutti quanti ad andare muoviti non si va di qua siiii io dico di no e io ti dico di si dai io voglio esplorare tutto il mondo di spara io ti aiuto questi si stanno incazzando ti devi muovere come lo fai a capire che si stanno incazzando ecco vedi qua che ci siamo dei cuori li voglio i cuori li voglio perché altrimenti poi vedi alla mia alla prossima missione mi si ammazzano atto se ti incontrano nella vita reale davano giocato il culo andiamo sto venire non è vero io sto dietro di te e ancora arrivi oh eccomi c'è uno che è benvenuto incontro ahi scendiamo ma siamo sicuri che qua siiii che incompetente doc short yes provi incompetente sei mai quanto te ah ah oh via vita vita piena oh yeah è è guarda che non abbastanza monete per cosa è per un mostro dark matter magic clock un questo è bella no però la risetta chissà quanto mi costa questo 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 nah io non compro niente 4 dai 12 aspetta vorrei cambiarmi ma vabbè il cambio no se è andato il nostro non lo vado lo vado dopo cosa l'altro che che si chiamava love in qualche modo no no è uscito anche l'altro no dove dove fai me io mo bene sulla sensore sono andato no oh no 25 per cento 40 60 89 di nuovo le gelatine no le gelatine assassine dai muo oddio questo che ammazza cespugli aspettate che c'ho qualche amico che posso invitare no 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 aspetta mi cambio tu cominci a andare semmai io arrivo a 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 sono morto come sei morto arrivo il più presto possibile poco arrivo vendicatore rinato cacchio non si fa niente cacchio non si fa niente è aspettavo la testa ma perchè non ho una piccola sommesso fa cagare oddio distruggiamo le farfalline no 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 ti prego cambiatemi no dove vai tu oddio ma la mia arma non fa niente è schifo e poi dopo sei potentissima me la so comprata nel dlc ok ok davos è una bestia ok cazzo pure questo non si oddio attenta dietro scappa ok 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 gira l'intorno no aiuto 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 a 14 per cento oh ma sei pazzo no che c'è che c'è che c'è allontanati che fa via no l'ho mancato oh oh allora serve a qualcosa sta pistola e la mia non serve a niente ah aspetta io mi son messo anche un'altra un'altra e capisca emotivoti s'omessa anche un'altra un'altra bomba e questo ho poderia sto bomba ok no ca e si sia proprio che chafo di danno che fa e alla mia vita tu nostri comunque che via 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 via.. dai non fa niente manco questa a scappa finchè a puoi da allora per esempio manca morto occhi no dimmi che non sei morto pazzo idea 14 per cento nessuno viene aiutarci calare l'indicatore time resta minchia vieni qua da cittadini cominciamo aiuto il cerchiato no darmi da fuori oddio no no io mi devo cambiare ora aspetti spingermi contro i nemici e che cazzo scappa dove spari nooo chiudiamo qui dai come chiudiamo qui chiudiamo qui dai personaggi al solitempo sono 21 20 tutti e si appunto vabbè ragazzi vi saluto e bye bye alla prossima ci vediamo alla prossima parte ciao ciao da vendicatore un bacio alle mie fan dei cinque di segnalo stanno se sarebbe no chi mi ha messo a dire perché tra cosa